24 maggio 1543 muore a Frombork in Polonia Niccolò Copernico, grande scienziato e autore della cosiddetta rivoluzione astronomica. A lui si deve la scoperta della teoria eliocentrica, quella per cui è il Sole e non la Terra il centro del sistema delle orbite e dei pianeti che compongono il sistema solare. Solo poco prima di morire Copernico riesce a pubblicare le sue scoperte nel volume delle rivoluzioni dei corpi celesti, che diventa il punto di riferimento per tutta l'astronomia moderna.